Attesa a Reggio Calabria per l'arrivo di circa 500 migranti dall'hotspot di Lampedusa. L'approdo della nave militare Vega, previsto inizialmente per oggi, slitta però a domani mattina a causa delle condizioni del mare che stanno rallentando la navigazione. Francesco Straticò. Sono 17 i moduli abitativi forniti dalla Protezione Civile Nazionale che sono stati montati dai volontari di diverse associazioni a Gallico, nell'area dove sorge la palestra della Scuola Boccioni. Finora, appunto, nella palestra potevano essere ospitate 180 persone. Adesso sono disponibili altri 102 posti letto. Questo ora si configura proprio come un hotspot utile ad accogliere quasi 300 migranti per periodi limitati. Per oggi era previsto l'arrivo nel porto di Reggio di 491 persone nell'ambito della strategia di alleggerimento del centro di accoglienza di Lampedusa. Il loro arrivo a bordo del pattugliatore Vega della Marina Militare è stato poi posticipato a domattina. Tra i migranti, tutti senza particolari problemi di salute, ci sono 104 donne e 24 bambini. E soprattutto per loro la macchina organizzativa dell'accoglienza, coordinata dalla Prefettura Regina, è all'opera già da venerdì scorso, con un grosso impegno per il montaggio delle strutture abitative. Secondo il piano di ridistribuzione del Ministero dell'Interno, circa 200 migranti resteranno in Calabria, tra Reggio e Crotone. Gli altri saranno equamente distribuiti tra Emilia Romagna, Lombardia e Campania.